Lunedì 8 aprile, buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con l'edicola Sfogliamo come sempre i quotidiani in edicola oggi partendo dai giornali nazionali che in apertura aprono con delle interviste importanti, vediamo la Repubblica, partiti al voto, Elie Schlein che dice basta con le correnti, la segretaria del Partito Democratico, le liste saranno espressione del nuovo corso senza ascoltare capi bastone e mercanteggiare, dopo il caso Bari con lo strappo del Movimento 5 Stelle in Piemonte si dimette il capogruppo regionale Dem Raffaele Gallo e ancora blitz della destra sulla parcondicio rivolta dell'opposizione che risponde parlando di atto di regime e ancora in taglio centrale il potere a sinistra in mano ai cacicchi, forse non c'è parola che più di cacicchi abbia accompagnato 30 anni di lotta e di potere dentro la sinistra italiana, ora è finita in bocca anche a Conte che l'ha usata contro il Partito Democratico dopo i fatti di Bari. Io con Schlein se combatte i cacicchi, queste erano state le parole di Giuseppe Conte quando è venuto a Bari riferendosi alla inchiesta giudiziaria che ha portato all'arresto del sindaco di Trigiano e poi ha cascata le dimissioni di Anita Mauro Di Noia, l'assessora della regione Puglia ai trasporti e ancora tragedia a Salerno, drogata e ubriaca in veste pattuglia, morti due carabinieri, due carabinieri che lo saprete erano entrambi pugliesi. Tornando alla politica però c'è l'analisi di Michele Ainis, bipresidenzialismo, istruzioni per l'uso. Torniamo in taglio alto sulla Repubblica per vedere anche quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza con Israele che ritira le truppe da Gaza a sud. Netanyahu, niente tregua senza il rilascio di ostaggi e poi l'offensiva russa, bombe teleguidate. Ora Kiev è in crisi. In spalla sulla Repubblica spazio al cartellone con Ezio Mauro la biblioteca civile per conservare la democrazia e poi il duello tra la scrittrice e l'intelligenza artificiale per chi crea il romanzo perfetto. E ancora mappe se il tifo rappresenta il territorio di Ilvo Diamanti e poi per concludere la prima pagina della Repubblica dopo due anni c'è Matteo Berrettini che torna alla vittoria. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui si parla tanto di quello che è successo nelle ultime ore a Bari e allora lo vediamo con Giuseppe Conte che è il titolo alto del Corriere della Sera. Una delle due aperture è Conte. Noi leali, il futuro dipende da Ellie. Ellie Schlein, la leader, vara un codice etico per i candidati. Allora leggiamo l'attacco del pezzo. Giuseppe Conte respinge le accuse di slealtà, sostenerlo, offende il popolo che ha creato il Movimento 5 Stelle e che ha fatto del principio della legalità la nostra stella polare. E sul campo largo, dice, il futuro dipende da Schlein. Poi lancia un monito. Ora Ellie, cambi il Partito Democratico o sarà il PD a cambiare lei? La segretaria del Partito Democratico intanto annuncia un nuovo codice per scegliere i candidati e sul rapporto con il Movimento 5 Stelle non si va avanti a strappi e ultimatum. In questa intervista al Corriere della Sera, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parla anche di Puglia perché in Puglia il Movimento 5 Stelle sostiene la giunta emiliano. Insomma, potrebbero esserci novità anche su questo fronte. Lo vedremo nelle prossime ore. Ancora, Partito di Movimento e stranità elettive a sinistra. Schlein racconta, il commento di Antonio Polito, racconta indispettita che per annunciare l'imminente rottura degli accordi unitari a Bari, Giuseppe Conte le abbia telefonato 5 minuti prima. Conte giura di averlo fatto 20 minuti prima. Ecco, in quei 15 minuti di sfasatura audio si può misurare la distanza che oggi sembra incolmabile tra i due trasmettitori del campo largo. Ciò a cui stiamo assistendo non è infatti l'effetto esplosivo, ma in fin dei conti transitorio di un paio di inchieste giudiziarie. È piuttosto la rivelazione di una genetica incompatibilità tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E ancora del caso Bari si parla sul Corriere della Sera con un altro commento, quello di Goffredo Buccini che parla di valori in vendita, bombole di gas e di voti. E allora Buccini si chiede quanto vale un voto? Una bombola del gas per la massaia di Grumo Appula che però offriva in cambio tutti gli amici del figlio da far votare e il rampollo in persona come rappresentante di lista. Fino a 50 euro, 4 di noi in famiglia e facciamo magari 200 per il pensionato di Trigiano che assoggettava i suoi cari alla formula di controllo. La combinazione preordinata sulla scheda tra nomi, cognomi e simboli. A quanto è quotato il fondamentale diritto democratico di ogni cittadino? Questa è la domanda che si pone Goffredo Buccini in prima pagina sul Corriere della Sera Corriere della Sera che dedica però l'apertura forte a Israele. Ritiro dal sud di Gaza, dentro la striscia resta un battaglione, Netanyahu, ma la guerra continua. La crisi a sei mesi dall'attacco terrorista cambia la strategia, la spinta degli Stati Uniti, il fronte iraniano. Restiamo sul Corriere della Sera perché di spalla all'interno del giornale tutte le segnalazioni. La scalata da sinistra in Francia tutti i pazzi per Glucksmann Junior che dice sfido Macron. E poi ancora politica, questa volta però si torna in Italia, le liti del leader di azione Carlo Calenda ha definito l'alieno che dice Bruxelles, Porto, chi sa l'inglese. E ancora sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera da Netflix ai libri Nostalgia di Berlusconi. Allora questi i quotidiani nazionali, passiamo adesso ai due quotidiani locali oggi in Edicola. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno che è titola Ora tocca a noi. Sono le parole di Matteo Salvini che ieri era a Bari e ha rilanciato finita l'era Emiliano De Caro e con l'autonomia. Addio alle pessime amministrazioni. Il commento è di Pier Franco Bruni. Ma su questa tempesta gli intellettuali di sinistra tacciono di spalla, spazio alla cronaca, all'addio ai due carabinieri. La Puglia piange ai suoi due carabinieri. Il tragico incidente stradale in Campania, poi in taglio basso, la terra degli Ecomostri. Poche demolizioni eseguite dalla Capitanata al Salento. Giù soltanto il 10%. E ancora un po' di notizie dalle province. I bike e ciclomotori truccati e i baresi multe per 20.000 euro. Bisceglie il grande caldo da record fa maturare le ciliegie in anticipo e poi ancora via ai lavori del sottopasso. Chiusa la Martina Alberobello. E poi notizie da Potenza. All'ospedale San Carlo. I feriti della guerra in Ucraina. L'accordo firmato ieri dal ministro Schillaci. Passiamo ora all'edicola del Sud che apre con Conte che mira alla regione Puglia. Evidentemente sarà una rivoluzione. Il campo largo è a pezzi. Il leader pentastellato dice le primarie, i dem, le vogliono perché sanno di vincerle. Leggiamo l'attacco del pezzo di Labia. Dopo aver fatto saltare le primarie del centro-sinistra a Bari. Il leader pentastellato Giuseppe Conte non fa mistero di puntare alla Puglia. Lo annuncia in TV quando durante un'intervista dice che da ora l'attenzione del Movimento 5 Stelle sarà diretta verso la regione. Ma Emiliano è tranquillo. Coi 5 Stelle non è finita. E ancora Bari alle urne per il terzo nome di Partito Democratico e 5 Stelle torna di modo tosto e caro figlio si sfila. Anche qui spazio a Salvini. Ora Salvini tira la volata a Romito. Vediamo gli altri titoli dell'edicola del Sud. Voto di scambio oggi Cataldo e Donatelli davanti al GIP. Poi ancora la fotonotizia dedicata alla tragedia in provincia di Salerno dove sono morti i due carabinieri pugliesi. Il foggiano pastore e il salentino Ferraro vittime di un incidente. Allora è tutta l'Italia a piangere. I carabinieri morti a Salerno. In taglio basso le candidature in vista di giugno all'europea e la carica delle vecchie glorie. Riecco Bindi e Moratti e poi ancora l'intervista col deputato Costa. I test per i magistrati. Solo fumo negli occhi. Necessarie le pagelle e poi ancora il nuovo condono all'orizzonte. Queste le prime pagine dei due quotidiani locali. Oggi ne dico ora la Gazzetta del Mezzogiorno come ogni lunedì. Non ci sono in edicola i dorsi di Repubblica Bari e Corriere del Mezzogiorno Puglia. Noi allora andiamo a vedere come titolano i siti di questi due giornali partendo dal sito di Repubblica Bari che apre con l'intervista al segretario cittadino Dem Todaro che dice tra 24 ore iniziamo a preparare le liste del Partito Democratico. Noi tutti quanti con le cese. Questa è l'intervista di Davide Caroglucci. In spalla vedete c'è spazio al lutto per la morte dei due carabinieri morti in Salento. Passiamo allora al Corriere del Mezzogiorno che apre proprio con la Puglia che piange. I carabinieri morti a Salerno, Pastore e il sogno della divisa, Ferraro e l'impegno con la protezione civile. Allora questi dunque erano i titoli principali dei giornali e dei siti web per oggi. In edicola oggi la nostra edicola torna domani. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.